Sono sempre stato appassionato di informatica e di nuove tecnologie e grazie a questa mia passione sono riuscito ad entrare in un mondo completamente diverso dal mondo lavorativo al quale ero abituato. Ho sempre lavorato nel settore della ristorazione, poi purtroppo nel 2014 mi sono ammalato per un tumore alla mascella e di conseguenza mi sono dovuto rimettere in gioco e per caso ho incontrato Adelante Dolmen che mi ha inserito in un nuovo mondo del lavoro. Politiche di inclusione di Adelante Dolmen sono il quotidiano di Adelante Dolmen, nel senso che si occupa di disabilità, si occupa di inserimento lavorativo di categorie protette in qualsiasi ruolo in impiegatizio. Lavoro per un'azienda che si occupa di ricerca e di sviluppo per il settore delle telecomunicazioni. Sono partito praticamente da zero perché principalmente l'azienda richiedeva l'utilizzo di due applicativi che sono un applicativo gestionale che è SAP e un applicativo progettuale che è SOLIDWORKS. Le caratteristiche principali di Massimiliano sono sicuramente la volontà di cambiare e di trovare una nuova attività lavorativa, una nuova vita. L'occasione c'è stata con noi e lui l'ha saputo accogliere molto bene e con veramente la determinazione di quello che vuole svoltare, andare avanti e diventare ben competente su qualcosa di nuovo. Naturalmente, soprattutto durante il primo anno, ho commesso tantissimi errori, però grazie al supporto dei colleghi sono riuscito a avviarmi verso il suo nuovo lavoro in maniera autonoma. L'inclusione per me vuol dire far parte di qualche cosa a livello sociale, a me viene da dire che è questo quello che per me ha significato. La nostra mission è proprio quella di cercare di aprire gli occhi alle aziende per poter accogliere anche qualcuno di, tra virgolette, diverso. Grazie per la visione!